Abbiamo vissuto dei tempi abbastanza forti a causa di questa pandemia del coronavirus e per noi oggi celebrare davvero questa festa della solennità, della visitazione di Maria e per noi segno ancora di essere guardati, di essere toccati dalla grazia di Dio. Dio non ha nascosto il suo volto, un po' di luce già si comincia a intravedere nelle nostre vite, in quelle vite che sono state toccate proprio da queste distanze che si sono fatte più grandi, più lunghe. E oggi invece davvero questa festa di questi due grembi che si ravvicinano ci vuole indicare ancora una volta che Dio non è lontano ma Dio è in mezzo al suo popolo, Dio è nel suo popolo e che ha raccorciato la distanza dal suo popolo. possa davvero questa festa oggi della visitazione di Maria portare nei nostri cuori tanta speranza, tanta luce che il mondo va verso tempi migliori.